amici di fano tv buonasera e ben trovati parte il primo di tre approfondimenti in studio dedicati a passaggi festival la kermesse estiva tra le più attese dal 20 al 26 giugno in sedi dislocate naturalmente a fano approda la decima edizione presentata al salone del libro di torino e abbiamo qua i nostri graditi ospiti ben trovata ludovica zuccarini vice direttore curatrice della rassegna e benvenuto davide catarossi responsabile dell'organizzazione del festival e curatore tanti gli appuntamenti numerosi gli ospiti noi in queste tre puntate scenderemo nel dettaglio e cercheremo di raccontarvi al meglio quello che succederà allora abbiamo diviso queste queste puntate per argomenti ma soprattutto per aree giusto davide si fuori passaggio è arrivata alla quarta edizione e torniamo nuovamente nel nella meravigliosa cornice del pincio sono stati quattro anni che abbiamo nelle quali abbiamo avuto una crescita esponenziale basta guardare anche un po la non alludo la disposizione del del palco e delle platee siamo partiti con una platea minima di 150 persone ci siamo poi spostati il secondo anno davanti a cesare aumentando la platea e poi l'anno scorso abbiamo fatto l'exploit diventando di fatto la seconda piazza no di del festival con più di 500 sedute quest'anno abbiamo aggiunto un altro un'altra novità fuori passaggi che porteremo delle presentazioni anche al mare e fuori passaggi è sempre è sempre la rassegna che dedichiamo musicisti e influencer quest'anno c'è stata una difficoltà anche nella formulazione poi del palinsesto perché per ovvie ragioni ovviamente per il discorso che comunque di tutta la parte inerente alla musica il filone musicale è ripartito i concerti sono ripartiti quindi come dire è stato è stato abbastanza difficoltoso riuscire a fare il palinsesto nonostante ciò siamo ripartiti con una voglia straordinaria fuori passaggi music and social ha già un titolo molto accattivante e ricordiamo che non è un format solo per i giovani perché poi comunque abbraccia una fascia di pubblico molto variegata no no chiaro è nata quando ce lo siamo immaginati il format è stato pensato proprio per per intercettare un pubblico anche che secondo noi mancava anche un po più più vicino anche alla nostra età anagrafica però anche quest'anno nella difficoltà appunto di intercettare alcuni artisti e cose siamo riusciti poi a fare anche un salto di qualità ulteriore perché siamo andati a pescare da altri emisferi diciamo che non fanno riferimento solo ed esclusivamente alla musica al mondo dei social ma che comunque penso a nomi come roberto saviano maura gancitano jonathan bazzi che utilizzano lo strumento del social network per comunicare comunque ad una fascia di pubblico molto giovane temi anche complessi sarà sicuramente una rassegna molto ricca composita sicuramente le aspettative in fatto di presenza di pubblico sono elevate perché già l'anno scorso è stato un successo quindi quest'anno c'è ancora più voglia di ritornare alla totale normalità allora Ludovica vediamo un po' nel dettaglio quali sono gli appuntamenti e gli ospiti soprattutto sì allora come ha già annunciato Davide quest'anno abbiamo cercato di abbiamo fatto un'ulteriore sfida rispetto agli anni passati perché abbiamo cercato di andare a intercettare non solo la musica e i social ma anche di andare a intercettare quelli che erano gli argomenti che in questi anni in questo anno avevano maggiormente diciamo colpito i social network iniziamo comunque lunedì con venti con la musica e abbiamo ospite francesca cantautrice francesca michelin con il suo romanzo di esordio e con lei ci sarà un'altra cantautrice sempre da direttamente da Sanremo che è un e in martedì invece avremo Giorgia Soleri Giorgia Soleri è un attivista dei social ha portato le sue battaglie arrivando anche in parlamento e questa è una raccolta di poesie dove racconta appunto la difficoltà di amare la difficoltà di vivere quindi con Giorgia Soleri si sarà poi la giornata di martedì e il mercoledì invece iniziamo alle 19.30 con Roberto Saviano è un giornalista scrittore con le sue battaglie ha dedicato la sua vita alla lotta alla mafia raccontandola appunto ai più giovani abbiamo poi alle 21 la filosofa Maura Gancitano che racconterà il mito della bellezza dello specchio e quindi un tema attualissimo perché comunque sia la bellezza è diventato anche in questi anni un fenomeno anche di prigione come dice appunto Maura alimentato anche dai social tanto alimentato anche dai social sì anche perché comunque i social sono uno strumento appunto forte ma di appunto di forte espressione ma anche questo punto a volte creano appunto dei problemi che quindi andiamo anche a analizzare in questo spazio. Mercoledì poi continueremo con Tess Masazza attrice influencer dopo la famosa web series insopportabilmente donna appunto esordisce con il suo romanzo quindi diciamo più un tono più allegro diciamo vivace in questo romanzo una commedia romantica e sicuramente avremo una bella serata conclusiva. Giovedì invece sarà la serata di Malena la porno star che racconterà appunto nella sua biografia pura edita da Mondadori e dialogherà con il direttore del festival Giovanni Belfiori e con la critica letteraria Carolina Iacucci ci racconterà appunto la sua vita e anche le sue esperienze politiche e quindi sarà appunto questa serata del giovedì. Venerdì invece apriamo con una delle penne forse più raffinate del panorama italiano degli scrittori in questo momento soprattutto della nostra generazione. Gioana Tambazzi dopo il suo primo romanzo Febbre che è stato tra i candidati dello strega arriva con questo suo secondo libro e racconta appunto la vita di un ragazzo che parte dalla provincia e si sposta appunto nella metropoli. Davvero Gioana Tambazzi è uno degli scrittori che in questo momento soprattutto della nostra età avrà probabilmente uno veramente uno delle penne più raffinate del panorama italiano. La seconda parte della serata invece sarà dedicata agli schiantos quindi al gruppo rock demenziale con la loro nuova autobiografia rivisitata e avremo poi uno dei componenti dandy bestia che appunto ci si esibirà al pincio. Sabato invece sarà la volta del premio a Carlotta Magnoli. Carlotta Magnoli è un attivista, un influencer e tramite tramite i social è riuscita a combattere, a comunque a tirare fuori argomenti come femminicidio, patriarcato, donne quindi sarà appunto lei a essere premiata e ci parlerà del suo nuovo libro. Domenica invece l'appuntamento si conclude, la rassegna si conclude con un'ultima cantautrice che è Nina Zilli che appunto nel suo romanzo di esordio e ci racconterà un po' di sé appunto e del suo del suo romanzo. È stata difficoltosa la scelta degli ospiti perché vedo una scelta molto variegata a tratti complessa però completa e interessante. Sì, sì, appunto come diceva Davide l'anno scorso è stato forse un pochino più semplice, comunque i concerti erano fermi, gli autori avevano scritto tantissimo, cantautori, cantautrici, cantanti e quindi diciamo che avevamo un bel panorama. Anche è vero che sono arrivate comunque tantissime proposte dagli editori che è un altro sintomo diciamo della crescita della rassegna. Quindi il lavoro di selezione comunque è stato certosino anche questa volta. Che altro dobbiamo aggiungere ragazzi? Aggiungiamo l'ultimo appuntamento che aveva raccontato appunto Davide che a noi ci fa particolarmente piacere perché siamo stati contattati da questo bagno, bagnesa, forse sei ore e a loro era piaciuto molto il nostro format e volevano appunto replicarlo in spiaggia e quindi abbiamo deciso insieme a loro di costruire una mini rassegna proprio in riva al mare in orario operativo dalle 18.30 alle 19.30 a Bagnelsa appunto e ci saranno ospiti, diciamo che abbiamo cercato di ricreare un mini format pincio, quindi ci sarà Luca De Gennaro quindi dedicato alla musica, ci sarà Oldenaccio quindi della graphic novel e ci sarà poi Teresa Cinque e Claudia Venuti, diciamo due personaggi social comunque che dibatteranno sul tema appunto dell'amore e dell'attualità. Quindi sì, siamo molto contenti anche di questo piccolo format che ci sarà poi a Bagnelsa. Bene, dobbiamo parlare adesso della graphic novel e quindi io intanto vi ringrazio e lasciamo spazio al prossimo ospite. Grazie. Se dico graphic novel necessariamente devo dire Giovanni Di Bari a cui do il benvenuto. Buonasera Giovanni. Buonasera. Allora, Passaggi fra le nuvole, parliamone perché già il titolo è davvero invitante e ci proietta davvero in un'altra atmosfera ancora. Sì, allora Passaggi fra le nuvole è la rassegna di graphic novel all'interno di Passaggi Festival, all'interno di Fuori Passaggi, che è la seconda piazza di Passaggi Festival al Pincio. È un'esperienza che abbiamo creato quattro anni fa. In realtà la rassegna di graphic novel ha un precedente rispetto a Fuori Passaggio al Pincio perché il primo anno e al quinto anno la rassegna lo abbiamo architettato all'interno di un cortile di un palazzo storico a Fano. Era un po' un'esperienza pilota, abbiamo cercato di sondare il terreno, è andata bene l'esperienza e quindi adesso ci siamo collocati all'interno di questa bellissima, del salotto di Fano. Il Pincio mi piace pensarlo come il salotto di Fano. È al suo quarto anno, quindi vuol dire che negli anni abbiamo avuto dei riscontri molto positivi. Abbiamo avuto tanti autori, anche quest'anno ne abbiamo tanti e diciamo così di pregio. Cerchiamo di coniugare nel costruire il palinsesto quegli autori che hanno una pubblicazione recente visto che siamo comunque all'interno di un contesto come hanno spiegato anche i miei colleghi Davide e Ludovica un contesto che richiama un pubblico che in qualche modo può essere anche un pubblico differente da quello che arriva a Passaggi e diciamo così pubblico della piazza principale di Passaggi abbiamo voluto costruire un palinsesto che potesse tenere in equilibrio anche qui la parte della qualità dell'autore con quella della, chiamiamola popolarità dell'autore insomma. E abbiamo costruito un palinsesto interessante anche quest'anno. In più quest'anno c'è anche un'altra novità molto carina che vi racconto. Svegliamola subito allora. Subito così. Subito no. Sì, vi do qualche piccola anticipazione. Ma in realtà non è un'anticipazione nel senso che quest'anno abbiamo voluto offrire un'ulteriore novità al pubblico del fumetto. Sì. Perché media partner con Passaggi c'è la lettura che ci accompagna già da qualche anno. La lettura è il settimanale culturale del Corriere della Sera e ha all'interno del suo giornale, del suo settimanale, una parte dedicata al fumetto. Allora abbiamo voluto coniugare un po' questa esperienza della lettura con Passaggi fra le nuvole. Abbiamo chiesto e abbiamo organizzato insieme alla lettura, Marco del Corona ci ha accompagnato in questa avventura, un concorso. Abbiamo voluto regalare la pubblicazione all'interno della lettura a tutti coloro che ci inviassero un lavoro originale naturalmente che potesse poi essere giudicato da una giuria. Non c'erano grandi limitazioni se non quelle editoriali di poter avere delle tavole pubblicabili all'interno del settimanale e è una short graphic novel, quindi un lavoro di fumetto molto piccolo, sta nelle due facciate del giornale. L'unica limitazione che abbiamo chiesto fosse di non fiction, cioè si radicasse in qualche modo in un evento reale, non fosse di totale e assoluta immaginazione o fantasia. Sono arrivati quasi 160 lavori. Ottima risposta direi. Ottima risposta, anche insperata, nel senso che noi avevamo più modeste ambizioni. In realtà ha avuto un grande successo, sono arrivati tantissimi lavori, abbiamo selezionato questi lavori e abbiamo fatto vincere quello che ci è sembrato il migliore per una serie di motivi, oltre a quelli, diciamo così, narrativi e grafici, anche di equilibrio, di compiutezza del racconto. Ha vinto Chiara Croce, che è una, non è una fumettista, però è una, diciamo così, una virtual designer, una che lavora all'interno del mondo della grafica e fa anche fumetto. Chiara Croce, non sto svelando niente perché già l'abbiamo in qualche modo fatta, come dire, abbiamo già deciso che lei è la vincitrice del nostro concorso, verrà premiata naturalmente durante il festival, sabato 25, e la premierà la presidentessa della nostra giuria di quest'anno, che è Zuzu. Zuzu è una fumettista molto conosciuta, molto apprezzata, che ci ha dato la possibilità, ci ha fatto anche un po' l'onore di essere la presidentessa della nostra giuria di quest'anno. Come premio, oltre a un riconoscimento in denaro, c'è il fatto che appunto le due tavole che Chiara ha fatto verranno pubblicate su la lettura del 5 di giugno. Questa è un po' la parte della novità di quest'anno, che abbiamo voluto mettere in campo. Il successo che abbiamo conseguito credo che rilanci, come dire, in maniera quasi automatica anche al prossimo anno, e quindi credo che questa esperienza possa essere la prima di una serie di esperienze che facciamo in collaborazione con la lettura. Anche questa molto accattivante, devo dire. Molto interessante, perché il nostro obiettivo, cioè quello di dar voce a qualcuno che altrimenti avrebbe avuto forse qualche difficoltà ad arrivare, diciamo così, non al pubblico, ma al mondo, in qualche modo, dell'editoria, lato senso. Ecco, questo l'abbiamo sicuramente raggiunto. Tu fa conto che fra i lavori è arrivato un lavoro di un bambino di 11 anni, che ci ha mandato il suo lavoro, e è arrivato un lavoro di un signore di 84 anni. Quindi abbiamo raccolto, come dire, lavori di tutte le età. Questo ha testimonianza che veramente Passaggi è un format per tutti quanti. Assolutamente. Ecco, e la cultura non ha confini, la cultura, la creatività e anche la voglia comunque di mettersi in gioco in qualche maniera in discussione. Assolutamente sì, a noi fa molto piacere questo, perché inizialmente pensavamo a fuori passaggi come un contenitore, fra virgolette, giovane. In realtà poi, durante gli anni, questi quattro anni, ci siamo accorti che, diciamo così, il pubblico non è giovane solo anagraficamente, e quindi stiamo raccogliendo tantissime adesioni neanche nel mondo del fumetto, quello che io rappresento un po', pensavo di poter fare delle rassegne che raccogliessero un pubblico quasi esclusivamente giovane. In realtà, no, il pubblico viene di tutte le età. Vengono i padri e madri con figli piccoli e vengono anche persone adulte. Bene. A proposito di adesioni e partecipazione a passaggi festival, ricordiamo che gli ingressi sono gratuiti e che quest'anno, insomma, non serve comunque una sorta di prenotazione. No. Allora, nel Pincio, nella location del Pincio, quest'anno andiamo completamente tranquilli e liberi da ogni vincolo che era stato imposto dalla situazione pandemica. Negli anni scorsi avevamo dovuto fare, diciamo così, abbiamo avuto attenzione alla tracciabilità dei nostri ospiti e anche di quelli che venivano a vedere, gli ospiti di platea, diciamo così. Quest'anno invece, fortunatamente, torniamo proprio al periodo pre-pandemia. Gli incontri sono sempre stati gratuiti, come sono gratuiti tutti quelli di passaggi, da sempre, perché questa è proprio una delle colonne portanti di chi ha organizzato questo evento sin dall'inizio. Per quanto riguarda appunto prenotazione e tracciabilità, quest'anno andiamo molto sereni e tranquilli, quindi possono venire in qualsiasi ora, in qualsiasi momento, senza nessuna restrizione. Prima di salutarci diamo anche un'occhiata al palinsesto che riguarda appunto passaggi fra le nuvole. E vediamo quali sono gli appuntamenti. Allora, molto velocemente, apriamo con una ragazza, Elisa Menini. Elisa Menini è stata premiata anche al Comic-Con di Napoli. Ci viene a raccontare questa ultima sua impresa che chiude una trilogia sul Giappone. È una disegnatrice molto conosciuta che attraverso questa esperienza grafica all'interno del mondo del Giappone si è resa nota anche a coloro che leggono, diciamo così, o che preferiscono quel tipo di letteratura fumetti. Questo lunedì 20. Martedì 21 sul palco grande ci sarà Sio. Sio è conosciutissimo, soprattutto dai piccoli, perché si è rivolto anche a un pubblico molto giovane, ma non solo. Quindi insieme a Francesco Foti ci viene a parlare, a raccontare della sua ultima esperienza editoriale. Continuiamo mercoledì 22 con Sara Garagnani. Sara Garagnani è un'autrice che ha fatto un lavoro molto interessante e importante, si intitola Mor, è su un'esperienza biografica e ce la racconta, ce la viene a raccontare in prima persona. Giovedì abbiamo un ospite che per noi è illustre, perché anche se magari poco conosciuto alle grandi platee, Stefano Ricci è un personaggio importante nel mondo del fumetto. Ci viene a parlare del suo ultimo lavoro, ma anche di un'esperienza che lui ha messo in piedi, che lui ha costruito da qualche tempo a questa parte. È una casa editrice che si chiama Sigaretten, che sta pubblicando dei lavori molto interessanti, forse ancora un po' di nicchia, ma che sicuramente nei prossimi anni avranno una eco diversa. Venerdì lasciamo il campo a musica e social, raccontavano Ludovica e Davide che c'è una giornata dedicata alla musica e ai social. Ritorniamo sabato con due appuntamenti. Il primo appuntamento è appunto quello con Zuzu, che farà un incontro e ci vorrà raccontare del suo ultimo lavoro, Giorni Felici, e poi ci sarà l'evento di premiazione di Chiara Croce, H. Fumettini Tristini, si chiama così su Instagram, e avremo un secondo appuntamento, sempre anche questo da noi molto caldeggiato, con Mara Cerri e Chiara Lagani, che hanno fatto, ed è stato pubblicato qualche settimana fa, un lavoro sull'Amica Geniale, un lavoro grafico sull'Amica Geniale. Quindi ci sarà il primo volume dell'Amica Geniale in graphic novel. Chiudiamo domenica con Marino Neri. Marino Neri è molto conosciuto fra i fumettisti, è un giovane fumettista, ma di grande esperienza. La sua ultima opera, La Tempesta, ci è molto piaciuta, per cui abbiamo voluto chiudere in bellezza con Marino. Bene, io ringrazio Giovanni Di Bari, Ludovica Zuccarini, Davide Catarossi, ringrazio Riccardo Sora in regia, a voi dell'attenzione, vi invito a seguirci perché Passaggi vi aspetta qua su Fanno TV per altri due approfondimenti. Vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.